Gianni è un grande piacere incontrarti, tu sei una vera leggenda della musica italiana e batterista che ha veramente fatto la storia perché tanto per citare alcuni nomi con cui ha lavorato, Celentano, Battisti, Mina, Ivano Fossati, Patti Bravo, Loredana Bertè hai fatto dei grandissimi dischi, dei pezzi che quando ho scoperto di andare a trovare il batterista che ha registrato queste canzoni ho detto mamma mia, che spettacolo, hai avuto una vita incredibile adesso che ti sento in effetti dentro di me dicevo eh però qualcosina? beh dai vai vai sei tu che mi devi chiedere io ti do una data, anzi ti do un posto, salso maggiore terme tu hai 13 anni, mi racconti cosa succede perché quello è un momento di svolta della tua carriera eri un ragazzino è un momento di svolta nella mia vita io suonavo a Mantua con un gruppino, allora si diceva i complessi era un complesso rock, rock and roll perché ovviamente io ho scoperto quella avventura musicale stupenda proprio verso i 10 anni e poi pian pianino a Mantua suonavo un po' con una mia amica la Marisa Sereni, suonava la fisarmonica, io la batteria, batteria di suo padre che è una batteria lasciata dall'esercito americano quando sono andati via batteria enorme, bella però insomma un po' difficile da suonare perché la cassa era enorme e mi facevo esperienza lì, poi sono entrato in questa bellissima musica del rock and roll e con l'original quartet, quel gruppo col quale poi siamo andati a salso maggiore terme cominciamo a fare le nostre esperienze nei locali soprattutto a far ballare la gente ricordo che c'erano sempre i tre lenti e i tre veloci e sui tre veloci mi divertivo, sui tre lenti dovevo prendere le spazzole allora mi sembravano, più che delle spazzole, mi sembravano dei pettini strani di ferro perché li vedevo in televisione, vedevo le foto con queste spazzole e cercavo di adeguarmi a quelle cose la mia tecnica musicale nasce attraverso un paio di foto e basta cioè io vedevo come tenevo in mano le bacchette per esempio Philly, Joey Jones che le teneva un po' strane qui a sinistra io mi adeguavo cioè dicevo non suonavo così suonavo così perché i batteristi lì suonavano così io cercavo di copiarli con l'original quartet miglioro un po' la mia tecnica perché poi i veloci erano sempre più veloci si partivano, non so, per esempio come on the baby, one one shaking, one no e poi si arriva come on the baby, one one e per cui le mie manine crescevano crescevano, l'avambraccio soprattutto nel settembre del 59 anno per me storico conosco Celentano perché andiamo a suonare in questo locale che si chiamava allora era un dancing ristorante La Guantara e quando arrivo lì vedo che c'era il manifesto fuori fu scritto Adriano Celentano in grande e chiaramente noi neanche ci nominavano poi Celentano non arriva arriva molto in ritardo noi pensiamo che arrivasse con la sua band con il suo gruppo anzi con il suo complesso e invece arriva pochi minuti prima che aprissero diciamo che il pubblico entrasse in sala lui arriva con un e entra in sala e già quando entra dentro lì mi aveva conquistato perché era lui, la sua fidanzata che era allora Milena Cantù e suo fratello Alessandro entra e dice eh cacchio ma sono andato in ritardo qui bum bum ma ascolti ma perché il padrone era incazzato come una iena e lui dice no ascolti non è colpa mia c'era un casino in autostrada ma a me servirebbe guardi mi serve solo il batterista e un chitarrista poi si gira così e anzi si gira io ero lì seduto sulla batteria e lui dice ma sei te il batterista? e io dico eh sì mio padre che era lì vicino perché mi accompagnava sempre chiaramente ero piccolo davvero va ad Adriano e dice il socialitario guardi lui conosce no adesso lo vede piccolo così ma conosce tutte le sue canzoni guardi lo provi e lui ad Adriano mi diceva scusa ma te conosci tutti i frutti? e io dico ma lei vuole la versione di Elvis Presley o quella di Little Richard? io le studiavo tutte e due le avevo in casa e lui fa no 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 la mia versione io ho detto senza sapere ah sì sì va bene va bene allora lui si gira appende il microfono va dal chitarrista e dice te sai tutti i frutti facciamo sta provetta è in sol sol eh capito? lui il chitarrista è spaventatissimo perché non ci aspettavamo sta qua e lui prende il microfono comincia a fare ah ah prende la chitarra che aveva a tracolla una chitarrina Mogar mi ricordo che faceva Monzino di Milano con una cordicina e si mette lì a fare cosa? tac 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 prova senti che c'è c'è un po' di audio e comincia io dietro al primo lui a metà canzone si gira si gira e fa brava basta no no poi te le canzoni le sai no facciamo una cosa adesso vado a mangiare poi quando torno adesso mi scendo quando torno c'è il pubblico io ogni volta mi giro ti dico il titolo vi dico il titolo la tonalità e partiamo tu immaginate oggi 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 un artista che va a dire queste cose ai suoi musicisti no è impossibile prove clicchini cuffiette cioè quelli che si mettono a posto si intonano automaticamente cioè tutto questo allora era possibile ed è avvenuto proprio così grande successo quella serata è andato tutto molto bene celentano poi manda il fratello da mio padre e gli dice mio fratello signor dall'aglio sta per fare un nuovo gruppo un nuovo complesso e mio padre rimane scioccato però viene da me subito mentre ancora stavo suonando era quasi mezzanotte e mi dice Gianne Adriano vuole che tu vada suonare con lui bellissimo io lo guardo e dico mentre suono papà no non ci voglio andare io cioè come faccio a lasciare i miei amici non posso lasciarli beh Adriano mi aveva però conquistato perché quando era entrato con questo modo di di essere simpatico poi aveva una giacca bianca bellissima pantaloni neri scarpe bianche una camicia a righe trasversali che era difficilissimo trovarli allora mi aveva conquistato in più e in più c'era questa prospettiva di andare a Milano chissà New York per me Milano Milano e lì comincia la mia vita da musicista con la va spettacolo con le ballerine con i comici con Adriano che viaggi nelle corriere come i film di Fellini nelle storie nelle storie che nascevano attraverso gli sguardi io che ero un bambino ancora per tutti per cui già mi piacevano delle ballerine però mi guardavano mi dicono ma sai come sei carino ma sai che suoni bene io ero lì che diceva sì lo so però tu hai un corpicino che mi piace molto ma non potevo dirlo perché per loro erano bambini andavano nei loro camerini ero l'unico che poteva entrare nei camerini delle ballerine e cosa facevano mi facevano vedere i loro peluche che si portavano nei vari camerini dei vari teatri e mi diceva ma che bello anche il mio anche il mio però le vedevo intanto in mutande e adrenzavo i capelli vabbè finita la storia no vabbè questo era il salso maggiore dobbiamo stare qua una vita no questo è il salso maggiore facciamo un attimo salto in avanti tu suoni con Celentano è parte della band dei ribelli che viene creata e che dura per diversi anni quindi tu lavori con Celentano che descrivi anche nel tuo libro un po' come un fratello maggiore è un periodo dove ti ha anche aiutato con cui tra l'altro poi è suonato anche negli anni successivi cioè è rimasto un grandissimo rapporto arrivi a un certo punto che continui la tua carriera con i ribelli e cominci a fare le session in studio parliamo ancora degli anni 60 dobbiamo dare un po' più step perché se no saltiamo molto in avanti allora intanto i ribelli nascono nel 60 voglio ricordare che i ribelli sono stati il primo gruppo italiano che ha diciamo sperimentato il genere del rock and roll non era beat non era soul era rock and roll rock and roll è il papà di tutti i generi che verranno dopo per cui noi suonavamo bene rock and roll Adriano era il cantante che in Italia lo cantava meglio di tutti e allora i ribelli crescono vanno avanti però inizia il periodo del beat e lì io mi trovo ad avere proprio a sentirmi dentro in quel genere lì perché cos'è il beat? cos'è sto beat per il mondo dei musicisti? ci sono due beat cioè il beat dei musicisti per cui il beat che io interpretavo quando suonavo ed è una cosa molto semplice il beat era un tempo marcato che prevalentemente nasceva dall'Inghilterra non dall'America in Inghilterra nasceva questo genere e si suonava in modo scarno semplice ma io purtroppo non ero un batterista scarno e semplice cercavo sempre di far tanta roba forse a volte anche sbagliando però fondamentalmente era qualcosa che faceva questo era il beat tra rock e qualcosa che stava nascendo a un certo punto però che cos'è il beat per me? per Genlio Dall'Aglio nel 62 63 64 65 66 il beat era anche un modo di essere libero, di fregarmene un po' di tutte quelle regole che mi avevano messo un po' a disagio nei primi anni sessanta. E beat per me era libertà e musica, ma nel frattempo nei ribelli c'è questa bomba atomica, arriva Demetrio Stratos, un grandissimo, un super grande artista, Demetrio Stratos, noi lo incontriamo giù a santa tecla perché cercavamo un tastierista cantante, andiamo a santa tecla, io vedo questo ragazzo che suona, era un trio allora mi ricordo, per cui mentre scendiamo le scale sento una interpretazione pazzesca di give me some loving e sento sta voce che entra, dico la madonna ragazzi, mi giro con i ribelli, dico ragazzi ma questo qua, questo qui è Spencer Davis, è l'originale, scendiamo e mi trovo questi tre lì, tutto questo ambiente scuro, buio, con poche persone, vedo sto ragazzone che canta da Dio con il vox, organo vox, bellissimo, tasti neri, stranissimo, tasti neri, e io rimango incantato e dico ai ragazzi, ma chi è questo? Madonna, aspettiamo, stiamo qua, appena smettono, ci buttiamo, ci fiondiamo e gli facciamo l'offerta di venire dentro il gruppo, infatti dopo un po' lui smette di suonare, arriva al bar, io vado da lui e dico, senti ma, scusa, ma sei inglese? Gli lo dico in italiano, lui mi fa, no no, è un casino, guarda, io sono nato, sono greco, però ho vissuto molto ad Alessandria, d'Egitto, ho studiato in Inghilterra moltissimo e adesso sono qui in Italia, adesso parlo, io sentivo che parlava bene con un accento un po' emiliano, c'è una madonna, ma dico, ma sei in Italia da molto? No, dice un paio di anni, due anni, ma ascolta Demetrio, adesso ti presento i miei amici, noi siamo i ribelli, conosci i ribelli? Lui fa, no no, no, cavolo, sì sì, vi conosco, e cosa succede? Che lui accetta di venire nei ribelli, però la cosa importantissima che non dobbiamo dimenticare e non voglio dimenticare è che io dal 62, cioè da quando inizia il clan Celentano, al 66 io incido tutte le canzoni prodotte dal clan, un po' come veniva nella Tamla Motown che c'erano tutti i musicisti che seguivano tutte le basi di tutti gli artisti, per cui io entro in sala d'incisione la prima volta che non so nulla di sala d'incisione, sparo come un pazzo, suono come dal vivo la mia batteria e lì arriva il primo trauma serio della mia vita musicale, arriva il fonico, tale Berlinghini che c'è ancora, lo saluto, ciao Berlinghini se mi vedrai, visto che sei ancora al mondo, mi dice, tu non puoi suonare così qua, mi ricordo questa prima esperienza che ho fatto era alla fonogram in piazza Cavour di Milano, sopra dove c'era un teatrino trasformato bellissimo tra l'altro in sala d'incisione, dove lì tra l'altro andava Mussolini prima della guerra a vedere tutti i film in forma privata, c'erano le seggiole, c'era la galleria con le seggiole di velluto, c'era tutto il parquet per terra dove si è trasformato in serie di incisione, io arrivo lì con la mia batteria, la mia Ludwig finalmente comprata a rate nel 62, la Ludwig comprata da uno che faceva un mercato in nero perché era un pilota di aerei dell'Italia, faceva Milano, Roma, New York, Roma, New York e ogni tanto si portava a casa qualche strumento che vendeva, lo vendeva e ovviamente c'era questo signore che faceva da tramite perché in Italia non c'era, cari amici batteristi, nel 62 la Ludwig non si poteva avere in Italia, a rielufonico torniamo prima e mi fa, oh eh te non puoi suonare tutta la batteria e mi dice, no adesso suoni, rullante e charleston e la cassa no, non lo puoi suonare, no perché se no rientra negli altri strumenti e io ho detto a me, ma come cazzo, cioè non posso suonare la cassa, ma no la cassa è la mia vita, cioè è come mettere i piedi per terra, no no no, e ora io suono, suono la cassa con rullante, nel senso che quando faccio un feel, è un feel, cioè tipo, quel battere che faccio con rullante era l'istinto perché c'era bisogno di questa cassa, no? Gattaci l'uno. Esatto, che dopo l'ho sentito fare da Copland, molti anni dopo, ma io l'ho fatto inconsciamente, non sapendo che, però anzi era un difetto fare il rullante imbattere, no, però io dovevo farlo perché non c'era né il piatto né la cassa, quel pun non c'era, e io imparavo poco per volta a discapito di qualche disco che ovviamente era molto impreciso, ma il mercato se ne fregava per niente delle imprecisioni, cosa sentiva il mercato allora? La melodia, la vocalità e lo spirito di chi suonava, se era uno spirito nuovo rispetto al passato funzionava, se no potevi essere preciso finché volevi, ma se eri preciso in uno spirito vecchio è passato, non succedeva niente, noi continuiamo a vendere, a mettere milioni di copie. Il primo disco venderà un milione e cinquecentomila copie, dice Lentano. E andando alla Ricordi facciamo un'esperienza bella, un mio brano verrà messo a disposizione dei ribelli e sarà Pugnichiusi. Pugnichiusi è la prima canzone che io scrivo insieme anche a Ricchigianco e a il mitico paroliere, non paroliere, poeta, io chiamerei, Luciano Beretta, che era quello che lavorava, però l'idea è mia di Pugnichiusi, Demetrio la canta da Dio, diventerà un successo spaventoso. E da lì partiamo, diventiamo anche dei Session Man per altri musicisti. Incido per una lira al clan con i ribelli, musica di Lucio Battisti, che conosco proprio lì, al clan Cedentano. Lo conosco perché Adriano aveva saputo che c'era questo artista che scriveva molte belle canzoni, molte, e lo vuole ascoltare, però per lui dice no, i tuoi pezzi, o eh no, i tuoi pezzi, dice i tuoi pezzi sono belli, ma non van bene per me. Forse a voi ribelli avete sentito qualche pezzo, noi scegliamo per una lira, andiamo in studio, la registriamo, a lui piace molto come la realizziamo. E cosa succede? Che lui ci chiama, chiama ancora una parte dei ribelli per fare per una lira della sua versione. Lui dopo qualche anno incide la versione Lucio Battisti. Andiamo, io e anche Salvador, che era il bassista dei ribelli, al quale dedico un ricordo con sentimento proprio profondo. Lui, io e lui eravamo una ritmica veramente, veramente consolidata, una ritmica sicura. Noi andavamo a suonare e sapevamo già, senza neanche guardarci, quello che succedeva. Quello che facevamo io con la cassa, lui lo secondava, cioè erano quelle cose che allora funzionavano bene, belli, tranquilli. Lucio prende noi due, fa la sua versione e si vede che piace molto e da lì comincia, proprio per una lira, comincia la mia avventura con Lucio Battisti. Avventura che veramente inciderò con lui. Nel 69 incido un'avventura, non è Francesca, tra l'altro non è Francesca, c'è una piccola, una piccola coda. Infatti quel finale lì, adesso parlando di Battisti, perché io sono un super fan e penso che sia veramente il numero uno, miei gusti personali, quindi voglio anche capire com'era lavorare con lui, che persona era, perché sai, ci sono dei documenti, però tu sei stato lì. Allora, ti dico subito com'era. Dunque era così la cosa. Alla mattina si andava in studio di registrazione, convocazione ore 9 e 30. Lucio era già lì alle 9 pronto con la chitarra, con la chitarrina, seduto, sapeva già la canzone e il testo perfettamente a memoria, sapeva già, aveva già in testa un casino di cose e diceva, perché aveva questa vocina un po' particolare, noi ci divertivamo fra di noi, così a imitarla questa vocina, perché era molto carina, lui tra l'altro quando parlava sembra che cantasse. Allora dice, oh, venite qua, perché tutti arriviamo un po' in ritardo sempre alla mattina, ma alle 9 e mezza eravamo pronti, venite, vi faccio ascoltare sto pezzo, vi faccio ascoltare sto pezzo. Noi andavamo lì e ascoltavamo alla mattina quello che andavamo a fare poi durante il giorno. In quel caso era Non è Francesca, fa sentire Non è Francesca, ti stai sbagliando che hai visto, non è, non è Francesca, boom 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 boom, e la fa da solo, da solo è già praticamente un'orchestra. Me la fa sentire tutta, a parte l'emozione, l'impatto proprio, il primo impatto su queste, su questi capolavori. Perché però allora, sinceramente, sì, erano capolavori. Non te ne rendevi conto ancora. Io non mi rendevo conto. La storia aveva ancora definito quello che serve. Bravo, non è ancora autorizzato a rendere limiti. Allora, lui la fa ascoltare, io dico, Lucio, ascoltami, mi sa che stavolta mi hai chiamato per nulla, perché io non ci farei niente a sta batteria. Io non sento la batteria qua. Lui mi guarda e fa, vabbè, allora mettete la batteria e vediamo che succede. Non suonare lo stesso. Facciamo noi, facciamo noi, basso, lui e basta. La prima traccia era voce, guida, voce e guida, perché lui aveva già questo stile importantissimo di farci ascoltare la melodia. Perché la cosa più brutta era suonare su uno schema di accordi o di minima partiturina senza sapere quello che sopra ci sarebbe stato. Era come amare una donna senza sapere chi è la donna, che faccia ha, che corpo ha. Tu dovevi amare una donna e non sapevi chi era questa donna. E così era la musica allora. Lui invece ti fa ascoltare, ti fa conoscere la donna e il suo contenuto. E tu ami subito questa donna, che è la canzone. E Lucio te la fa sentire così. Io dico, non faccio nulla, vado alla batteria, mi metto lì, sto fermo. Lui fa due, tre tracce, tre, quattro anche. Poi alla quinta vedo che sento che viene benissimo, ormai è rodata e viene da dio. E c'è il finale. Il finale è... E allora a quel punto li, lui ferma la canzone e comincia con un giro. e mi guarda e sorride e io dico la canzone è finita adesso posso suonarla e mi adeguo in questa pausa dopo che c'è il io faccio dei break e mi diverto e dico è finita cazzo vado avanti e andiamo avanti un'ora e mezza no per dire ero un minuto e mezza andiamo avanti Lucio si diverte si diverte sorride mi guarda e sorride e finisce lì alla fine dice oh bella è andata bene io dentro me dico sì vabbè però la canzone mai era finita ci salutiamo vado a casa due mesi dopo sono alle ricordi per prendere i soldi dell'incisione in ufficio e dietro di me tra l'altro ci pagavano il lavoro dell'incisione e era sempre come abitudine darci anche il disco un disco in omaggio disco in omaggio e soldini però mi giro e dietro di me vedo oh Lucio sei qua anche tu anche lui prende i suoi soldini perché suonava la chitarra e allora mi guarda e fa ah oh ah già è venuta una bomba devi sentire quella cosa che abbiamo fatto alla fine sui tuoi break il tuo accento ci abbiamo messo tutta l'orchestra è venuta una bomba quando va a casa va ad ascoltare io vado a casa come arrivo a casa a Milano a mia moglie dico oh fammi sentire no vieni a mangiare che è pronto no no voglio sentire il 45 metto su il 45 e sento una canzone che dura un minuto e 40 poi il finale dura un minuto e mezzo cioè dico eh la madonna che bello ma guarda sento i fiati spesso io lui adorava la batteria ogni tanto si sedeva sulla mia batteria per rilassarsi quando c'era un momento un po' così un po' pesantino durante la session che non mi piace chiamare la session durante l'incisione ecco e lui andava lì e diceva ah oh diceva ascolta sto pezzo dimmi com'è poi gli mette lì e si divertiva con questa faccina da bambino sorridente io dicevo oh Lucio ma cazzo ma c'hai una bella pacca ma sei bravo eh si divertiva suonare sulla mia Slingerland bellissima senza pelle davanti e si divertiva un po' e lì nasce la mia storia ora è utile che ti ricordi quello che ho suonato con Lucio te lo posso solo far vedere allora comunque tu hai detto che lui quando cantava no quando parlava cantava cantava tu hai groove quando parli ah si bene allora il mio caro Angelo vai che meraviglia qui il mio caro Angelo succede che la suoniamo in tre e ci siamo io Bob Callero e Lucio abbiamo parlato del mio caro Angelo poi c'è il mio cantore qua ragazzi qua mi fai volare via sì ma mi sono volato via anch'io quando Lucio è venuto da me proprio parlando del mio canto libero mi dice perché io gli ho detto Lucio io ho un'idea che ti faccio sentire come la sentirei e lui mi guarda e dice sto pezzo lo devi suonare rilassato ma nervoso lo devi suonare rilassato ma nervoso e io dico sì sì ho capito rilassato ma nervoso ma ragazzi vi rendete conto che vuol dire rilassato ma nervoso cioè io ho detto di sì ma non ne ho capito ma praticamente l'ho messo in pratica poi durante la canzone perché lascio che lui canti tutto il brano e l'importante è il batterista deve quando allora in quell'epoca lì io seguivo molto la melodia nelle canzoni mi medesimavo la batteria oggi sarebbe impossibile poterlo fare però allora mi medesimavo nel fattore melodico e mi adeguavo alla melodia lui canta tutta la prima parte in un mondo che va avanti non ci vuole più e poi la ripete ancora nasce un sentimento nasce dentro un pianto e si inalza altissimo e va e vola su in un mondo che ecco io lì entro e cosa faccio però non entro a rompere le palle alla voce entro lascio che lui canti e negli spazi faccio qualcosa per cui lì lì c'è un momento anche creativo se vogliamo no in un mondo che ecco quel non rompe le palle al canto perché lascio che lui non ci vuole più sta ecco e allora qui lui alla fine mi guarda e fa oh già mi è piaciuto hai fatto rilassato quando canto è nervoso quando non canto e ci ha messo dentro quel che mi piace è come se il cuore facesse un extra sistone e allora io mi sono messo a ridere ho detto bellissimo cavolo Lucio mi fa piacere che ti piaccia vabbè facciamo sto facciamo sta incisione e l'abbiamo fatta in pochissimo il mio canto libero base nasce in pochissimo tempo come spesso succedeva mentre invece una cosa che nasce nasce molto 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 complessa è Anima Latina io penso che senza scrivere una nota Anima Latina sia un miracolo di esecuzione e di e di ritmiche la ritmica Anima Latina non so oggi non sarei più capace di suonare quei pezzi lì così complessi poi tra l'altro Anima Latina è considerato l'album più più lo sai no l'album più prestigioso di Lucio dove tutti ogni tanto c'è qualcuno che dice artisticamente come più la critica e l'opinione pubblica è un'altra cosa ma la critica lo reputa ogni tanto salta su qualcuno che dice anch'io ho fatto qualcosa in Anima Latina comunque la realtà è che i nomi sono segnati sul disco e quelli sono quelli che hanno fatto il disco no però me ne devi raccontare una che è proprio la storia della musica italiana in tv perché tu sei andato a fare il famoso medley Battisti Mina cos'era settanta? due due settantadue difficilissimo quel medley perché ci sono mille pezzi io lo suonavo perché avevo facendo un concerto tributo a Battisti quindi ogni tanto veniva una bravissima cantante che faceva Mina un casino voi l'avete fatto tipo buono alla prima com'è la storia? allora beh la storia nasce così noi noi ci chiamano al telefono mi chiamano e io so che che mi devo trovare alla stazione di Milano per incontrare i miei amici e andare a fare questa televisione con Lucio a Roma ora io non sapevo chi avrei incontrato sul treno non sapevamo nulla così vai a Roma senza batteria perché la trovi là io dico a Antonella della numero uno dico Antonella mi raccomando batteria buona fammi trovare le pelli a posto le fa sì sì no no dico hai qualche preferenza dico no la Raya avrà una batteria buona però tutto là è pronto io mi porto solo le mie bacchette e basta arrivo alla stazione comincio a vedere arrivare i miei amici vedo Massimo Luca al quale col quale avevo già fatto un sacco di lavori in sala di incisione e in tournée abbiamo suonato con Loredana Bertè abbiamo fatto dei tour con Pappalardo ci siamo divertiti come dei matti per cui siamo un po' molto molto legati molto amici Anger Salvador il bassista dei ribelli lo vedo arrivare col suo basso col suo foderino del basso e Anger anche tu baci e abbracci poi vedo Gabriele Lorenzi che suonava con la Formula 3 prima allora ciao Gabriele arriva anche lui poi arriva uno nuovo Eugenio Guarraia che non avevo mai conosciuto io dico ciao tu sei e io sono Eugenio vengo da Osta ah cavo hai fatto un viaggione e adesso adesso spero di riposarmi in treno e allora cominciamo salire saliamo e andiamo al posto delle nostre cucette il treno parte comincia a partire alle 23 facciamo tutta notte a un certo punto diciamo e Lucio dov'è Lucio ah sono qua era lì vicino alla nostra cucetta e la dà solo la cucetta sto qua adesso vengo eh raga anzi no venite qui voi da me andiamo da lui e sul treno dentro un vagone di cucette Lucio ci fa ascoltare un po' di brani e dice e dice questi brani ah sti pezzi dobbiamo legarli mettili insieme che dobbiamo fare un po' di roba allora allora il primo brano è questo e lo fa sentire e dice la tonalità Massimo Lucio dice Lucio aspetta prendo anche io la chitarra prende la chitarra si mette lì si siede vicino a lui io ho le bacchette in mano dico Lucio senti mi pare che il cuscino che c'è qua abbia un buon suono se lo infatti con la bacchetta fa un bel suono percussivo era la mia batteria me lo metto lì mi metto lì e lui comincia a fare il pezzo poi fa un altro poi un altro un altro e li leghiamo e io dico Lucio ma tra tra sto pezzo e l'altro ti va bene questa velocità lui fa si vabbè vabbè bravo mi sono dimenticato guardate che ci sarà pure Mina eh ci sarà pure Mina con noi cioè tu non lo sapevi no niente allora ci guardiamo tutti fra di noi diciamo ah ah andiamo a fare una cosa con Mina tu e Mina eh perché no eh dico bene dentro di me ho detto potevano dirmelo subito che mi sarei messo un vestito per Mina vabbè e infatti andiamo arriviamo a Piacenza la tua città smettiamo perché Lucio dice dice beh abbiamo guardato un po' tutto ci siamo arrangiati vabbè domani facciamo le prove in studio e andrà tutto bene ma buonanotte raga boom andiamo tutti a letto cucetta ognuno di noi con le sue fantasie io e le sue preoccupazioni che sai andiamo con Mina perché Mina io l'ho già conosciuta avevo già fatto delle cose con Mina avevo inciso anche per lei e e in più avevo fatto un dueto importantissimo Lucio e no Lucio Adriano Celentano e Mina avevamo fatto un Wode 6 pazzesco fellignano in televisione e su Rai 1 per cui già conoscevo Mina e allora lì ognuno di noi ha i suoi pensieri si addormenta arriviamo arriviamo a Roma il giorno dopo speriamo di fare delle prove serie fatte bene arriva Mina e dice siamo pronti a fare le prove avanti tutti pronti lì la batteria già pronta l'organo Hammond il pianoforte verticale Guarraia anche il sabato io la batteria lì tra l'altro mi accorgo che mi mettono sopra una una pedana e dentro di me dico vuoi vedere che stavolta mia nonna finalmente potrà vedermi in televisione visto che tutte le volte il batterista è sempre basso con tutti davanti vabbè e Massimo Luca e facciamo le prove facciamo le prove perché nel frattempo noi il pomeriggio ci eravamo messi lì e ripassavamo i pezzi senza luce senza Mina per vedere soprattutto i cambi del tempo perché erano difficilissimi infatti ti dicevo perché non c'è un pezzo fino a lato esatto esatto e poi impararli a memoria imparare tutto perché non c'era tempo per far nulla il tempo volava i minuti erano già a un certo punto Mina comincia il primo pezzo e va tutto bene il secondo e noi sogniamo spontaneamente e viene tutto bene 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 fino all'ultimo pezzo qui Mina smette e dice basta basta io è tardi mi fanno segno che devo andarmi a truccare va bene siete bravi si gira a noi e dice siete bravi i cinque amici sono bravi lucio sono bravi nel frattempo vedo l'orchestra dietro 40 musicisti dietro mentre mi giro così che ci guardano incazzati vuol dire sono venuti a fare questi cinque smidollati da Milano che noi siamo qua 20 persone eravamo pronti a leggere tutto a suonare da Dio e ci guardano male però Mina ci dice siete bravi e loro rimangono un po' spiazzati comunque Mina va a cambiarsi noi andiamo in camerini io vado da Lucio e dico Lucio come dobbiamo vestirci secondo te liberi fate quello che vi pare andiamo in sala in sala nostra lì in nostro camerino e Lucio viene da noi bussa fatta ah regà dobbiamo venire facciamo un facciamo un briefing eh eh ci diamo un'occhiata ai pezzi in sala ancora da lui lì nel suo camerino prende la chitarra e ripassiamo tutto ed è stato molto utile questo perché quel ripasso lì è stata come la prova generale vera che non avete mai fatto mai fatto poi ci troviamo di colpo in studio la gente che applaude è tutto è tutto che ormai è compiuto e dobbiamo solo suonare suoniamo facciamo tutto quello che dobbiamo fare io alla fine dopo questi applausi pazzeschi del pubblico mi giro a riguardo all'orchestra e vedo che qualcuno applaude ed è lì che ho capito che era andato tutto bene perché se applaudono loro vuol dire che è andata bene poi ho potuto rivedermi e riascoltarmi dieci anni dopo per dieci anni non ho mai saputo come era andata davvero quella storia lì dieci anni dopo hanno riproposto in televisione quella cosa io ho potuto rivedermi e sinceramente in quell'occasione ho detto beh però cavolo è andato davvero bene è andato davvero bene ma è stato un miracolo pensa se avessi sbagliato un passaggino o mi fossi fermato un sedicesimo dopo mi sarei bruciato la carriera perché perché quello lì per altri cinquant'anni l'hanno messo tutti gli anni decine di volte centinaia di volte io ormai ormai sono abituato a guardare quella roba lì e non vedere più che sono io che suona a pensare che quello lì è un altro e Gianni Dallario è un altro non sono più io perché forza di vedermi là non riesco più a appartenere a quella realtà che è virtuale quando ti vede in video ecco questa è la storia di Mina e Lucio Battisti Gianni allora questo è il tuo libro Batti un colpo dove ci sono un po' di questi racconti che hai citato e molti altri quindi io starei qua tre giorni a sentire tutti i tuoi racconti ma consiglio vivamente questo libro qua veramente bello perché è una storia della società italiana degli anni sessanta non è solo una storia di musica e non si parla troppo neanche di batteria è proprio il tuo racconto personale molto bello molto affascinante tu oggi sei ancora attivo con la musica però come no come fa io non sono io che ho scelto la musica è la musica che ha scelto me io sono nato sono nato praticamente con mille problemi perché da piccolo a scuola ero una frana ero l'ultimo somarone della scuola ero io mi mettevano anche sempre in un ultimo banco per cui poi una volta sono andato a scuola di musica mia madre già quando suonavo in casa con la mia batteria davanti allo specchio in camera da letto montavo e mi guardavo per vedere come erano le mani parliamo anche un po' un piccolo flash della batteria cioè la batteria è la mia vita il ritmo è ormai un qualcosa che appartiene al mio essere cioè per me tutto è ritmo quando quando devo suonare la batteria oggi la suono con la testa non sto lì ad andare a sedermi sulla batteria la suono con la testa non ho più belleità tecniche non le ho mai avute penso che la batteria sia un'espressione importante che si deve adeguare a quello che c'è intorno io parlo se qualcuno mi ascolta io suono se qualcuno mi ascolta ma per ascoltarmi bisogna che io sia in un contesto una cosa che detesto oggi è ascoltare gli assoli di batteria li reggo un secondo e mezzo dopodiché anche se sono pirotecnici ti annoiano non solo mi annoiano mi danno fastidio perché questa fisicità tutta proiettata su quel bellissimo strumento che è la batteria la maltrattano la spaccano gli danno dei colpi sti neri enormi ciccioni che danno delle pacche che sono bravissimi geniali capito ma chi se ne frega io dico io voglio suonare oggi ancora oggi per emozionarmi e cercare di emozionare gli altri tanto per anni per anni ho insegnato qui nella mia città so 25 anni dove mi sono veramente riportato a terra a terra per poter insegnare io stesso ero un allievo mentre insegnavo ero allievo anch'io però la cosa più bella che posso dire di quel periodo è che ho insegnato anche i comportamenti di un batterista nella vita come com'è la vita di un musicista come deve come deve sentirsi un musicista nel rapporto con gli altri con la vita i valori ecco tutto questo io l'ho insegnato ai miei allievi e ancora oggi ci amiamo sia io che loro cosa faccio oggi intanto vi tolgo gli occhiali perché voglio raccontare quest'ultima cosa guardandovi bene in faccia nei volti allora cosa faccio oggi oggi suono ancora mi emoziono e metto in pratica tutto quello che ho accumulato in questa vita meravigliosa che mi ha regalato tantissimo in cui sono più le cose che ho ricevuto di quelle che ho dato sicuramente però emoziono cerco di emozionare chi mi ascolta chi mi ascolta e i progetti sono due uno ancora i ribelli e racconto tutta la storia della mia carriera attraverso i ribelli Adriano Lucio stesso e tutti quei personaggi che ho suonato o i quali ho suonato e due e due è Anima Lucio questo concerto che diciamo coinvolge Massimo Luca come vi dicevo prima mio carissimo amico che canta suona la chitarra acustica e Bob Callero sono andato a riprenderlo a Genova il mio vecchio amico Bob Callero e io rappresentiamo un racconto che fa che cosa fa emozionare il pubblico perché raccontiamo come faccio con te adesso quello che abbiamo vissuto con Lucio e poi lo sogniamo e lo sogniamo non con lo spirito dell'epoca ma col filtro che la vita ci ha dato e però emerge quello stile là perché la gente apprezza che esce quella dimensione quel sound quel suono inconfondibile dei dischi di Lucio Battisti noi siamo gli originali ci tengo a dirlo io ho inciso almeno 40 canzoni con Lucio altre tante se ne ha incise Massimo Luca forse un po' meno Bob Callero ma vibrano queste cose vibrano fra noi e il pubblico per cui voglio ricordare i batteristi che amo tutti che che li ammiro tantissimo semplicemente i quelli quelli nuovi quelli molto bravi non faccio i nomi perché sono tantissimi quelli bravi come stimo e amo i miei vecchi colleghi come Ella De Bandini e tutti gli altri è una famiglia la nostra e vorrei che potessimo vivere tutti insieme un giorno in una grande casa e parlarci scambiarci idee studiare insieme perché il nostro è un mondo veramente meraviglioso di umanità e di musica buona per cui dico studiate suonate ma soprattutto pensate che la batteria è la vostra vita e anche se non otterrete i grandi successi ricordatevi sempre come avete iniziato con la passione quella è la nostra chiave la passione grazie gianni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti